Siamo il nostro passato, non ricordiamo 400 anni fa, ma abbiamo il dovere di far ricordare il futuro, quello che oggi noi viviamo di bello. Ecco ciò che rende bello anche il nostro presente. Dopo le celebrazioni del quarto centenario di San Giuliano Martiri avvenute l'anno scorso, in cui è stato annunciato la stesura di un libro dedicato al santo patrono di Giuliano, ieri è stato presentato il volume. Nella collegiata di Santa Sofia, in piazza Matteotti, Casa del Santo, si è tenuto l'incontro di presentazione. Pagine di storia, testimonianze di fede e racconti di anni di celebrazioni in cui non manca un focus sulle tradizioni e la cultura giulianese. Il testo, la raccolta di testimonianze e di ricordi in occasione dei 400 anni di patrocinio di San Giuliano, della città di Giuliano, li sono celebrati l'anno scorso. Quindi ci sono le omelie del cardinale che ha presentato, il cardinale Semerario, dei vescovi che hanno presentato le diverse liturgie e delle testimonianze dei cittadini che hanno contribuito a questa festa. San Giuliano non è solo un esempio, ma una ricchezza per tutti. Ma non solo l'esempio a volte come un dovere da vivere, piuttosto come la ricchezza, di una persona che ha già maturato delle scelte che orientano tutto quanto il suo cammino, che fanno vivere la gioia, possiamo dire, del credere fortemente in ciò che è il bene, in ciò che è verità, in ciò che è giustizia. Editore del volume Claudio, storica attività del territorio. Attraverso questo volume abbiamo voluto donare quindi un abbraccio ancora una volta a tutto il territorio di Giuliano. Un modo per lasciare alle generazioni un segno tangibile e reale di una storia, di un popolo e di una devozione. Siamo il nostro passato, non ricordiamo 400 anni fa, ma abbiamo il dovere di far ricordare il futuro, quello che oggi noi viviamo di bello. Ecco ciò che rende bello anche il nostro presente.